In questo percorso abbiamo deciso di focalizzarci su alcuni tra gli interrogativi più affascinanti e misteriosi che emergono dalle conoscenze che oggi abbiamo riguardanti l'origine e l'evoluzione della vita. Nel percorso appunto è compreso il passaggio dal non vivente al vivente nella terra primordiale e la successiva evoluzione dalla prima cellula al mondo biologico presente. Da qui il titolo Vita in divenire. Quindi per cominciare, ad oggi che cosa si sa sul processo di formazione dei primi esseri viventi e sul modo in cui questi esseri viventi erano fatti? Beh, quello che potrei dire per prima cosa è che le acquisizioni degli ultimi decenni sono state notevoli e significative, ma da un certo punto di vista paradossalmente hanno suscitato più domande che non fornire risposte e in fondo questo è uno degli aspetti affascinanti di questa storia. Ci sono molti aspetti ancora incompresi che meritano di essere approfonditi. Per cominciare la storia anche in termini cronologici potrei dire che il primo esperimento che in qualche senso si propone di dare una spiegazione alla comparsa della vita è quello ormai noto a tutti di Stanley Miller del 53 il quale tentò di riprodurre le condizioni che riteneva ci fossero nella terra primitiva in un sistema ricostruito in laboratorio, in un sistema confinato dove c'erano i componenti che riteneva componessero l'atmosfera, ammoniaca, metano, idrogeno, naturalmente vapore d'acqua, una raccolta d'acqua e una fonte di energia sotto forma di scariche elettriche. In questo modo lui riuscì a dimostrare che in queste condizioni si formavano molti composti, un repertorio ampio di composti che sono gli ingredienti fondamentali di tutti gli organismi viventi, ad esempio amminoacidi che compongono le proteine intermedi del metabolismo, anche del nostro metabolismo come l'acido lattico e negli esperimenti successivi, che non fece lui ma che fecero altri secondo lo stesso schema, anche nucleotidi, i componenti degli acidi nucleici. L'aspetto ancora più affascinante è che successivamente si è scoperto che questi composti pervadono lo spazio, gli spazi interstellari, come dimostrato da analisi spettroscopiche. Quindi il primo insegnamento è che c'è una chimica della vita che si forma spontaneamente e probabilmente è diffusa dappertutto nel cosmo. Quindi questo era già un suggerimento circa questa possibilità iniziale di produrre, non dico la vita, ma gli ingredienti fondamentali. E' facile da un certo punto di vista. Ancora più affascinanti sono i risultati che sono stati ottenuti in epoche successive, qui parliamo a partire degli anni 80, ma anche attualmente sono in corso investigazioni a questo riguardo. E queste sono investigazioni che hanno fissato l'attenzione sulle sorgenti idrotermali che si trovano ai fondali oceanici. Da queste fratture della crosta escono dei gas ad altissima temperatura, ricchi di composti organici e inorganici di vario tipo. Secondo certe simulazioni che sono state fatte e anche esperimenti in laboratorio, è stato suggerito che a livello di queste formazioni si possano generare di nuovo misceli di composti di interesse biologico, ma addirittura a bozzi di trasformazioni metaboliche. Quindi qualcosa anche di più avanzato di quello che dimostrò Stanley Miller. Certamente non siamo a livello della vita. E comunque, proprio sulla base di queste scoperte, oggi tutti gli scienziati sono propensi a ritenere che la vita sia comparsa proprio a livello di queste formazioni. Proprio in quanto le scoperte che sono state fatte rendono estremamente plausibile un percorso di complessificazione chimica proprio diretto nella formazione di organismi primordiali. Cosa ci insegna tutto questo? Beh, fermo restando che nessuno è riuscito a ricostruire la vita in provetta, però queste scoperte ci suggeriscono che una combinazione opportuna e tutt'altro che rara sulla Terra di condizioni fisiche di disponibilità di composti organici e inorganici sia in grado di imboccare perlomeno l'evoluzione chimica verso la costruzione di sistemi biologici. Ma quindi, come anche lei giustamente ha affermato, non si è riusciti a riprodurre la vita in provetta, ma si è riuscito a fare un identikit della prima cellula? In qualche senso sì, almeno in prima approssimazione, estrapolando dalla costruzione molecolare degli organismi che abbiamo oggi sulla Terra, al presente. Però, prima di approfondire questo punto, anche per chiarirlo meglio, mi sembra opportuno soprattutto delineare lo sviluppo cronologico delle epoche che hanno caratterizzato l'evoluzione geologica, chimica, fisica della Terra, perché questo è lo scenario in cui compare la vita. Come si vede nello schema che viene mostrato, la Terra ha circa 4 miliardi e mezzo di anni, una datazione molto precisa, e sulle base delle evidenze che disponiamo, le prime forme di vita, almeno documentate, risalgono a 3-8 miliardi di anni fa. Probabilmente c'erano anche prima. Naturalmente, quando si può datare un certo reperto, questo significa per lo più che quella determinata forma preesisteva già qualche tempo prima. Ma quello che bisogna aggiungere, sempre per chiarire lo scenario, che dai 4 miliardi e mezzo di anni della formazione della Terra ai 3-8 miliardi di anni che possiamo attribuire come l'età della forma di vita più antica, intercorre un tempo in cui la Terra era completamente inabitabile. Come tutti sanno, la Terra inizialmente era praticamente coperta di lava, quindi temperature elevatissime, bombardata da meteoriti, mancava l'acqua. Perché la Terra diventi abitabile e devono passare parecchie centinaia di milioni di anni, anche se in realtà non sappiamo esattamente la cronologia di questa transizione. Ma questa osservazione ci dice qualcosa di importante, cioè che la vita compare sulla Terra in tempi brevissimi, non appena le condizioni chimico-fisiche lo rendono possibile. Perché la vita possa formarsi, c'è bisogno di una temperatura non troppo elevata, c'è bisogno della presenza di acqua, tutti elementi che si sono prodotti in un tempo molto successivo alla formazione del pianeta. Quello che possiamo dire, in qualche senso, è che la comparsa della vita, mi piace usare questa espressione, è una partenza lanciata, cioè in tempi brevissimi, non appena le condizioni lo consentono, i primi organismi si formano. Per quanto riguarda questo organismo primordiale, noi ovviamente non lo abbiamo sott'occhio, però è stato ricostruito plausibilmente in base a un criterio molto semplice. Le caratteristiche molecolari di questo organismo devono essere riscontrate in tutti gli organismi oggi viventi. Se ci sono in tutti, dove esserci anche nel loro pregenitore. Questo progenitore è stato denominato LUCA. LUCA è un acronimo che significa Last Universal Common Ancestor. Si potrebbe tradurre il progenitore comune, universale, progenitore di tutti gli organismi. In realtà non sappiamo se ci sono stati altri organismi primordiali in contemporanea che poi si sono estinti. Questo non potremo saperlo mai, perché non hanno lasciato traccia. Però di questo possiamo ricostruire un identikit, come abbiamo visto, sulla base del criterio che ho descritto. In base a questo criterio sappiamo anche che tutti discendiamo da questo unico organismo primordiale, che con ogni probabilità si è sviluppato a livello di queste sorgenti idrotermali. Quindi siamo tutti imparentati, tutti gli organismi viventi sono imparentati tra di loro e anche noi siamo discendenti di questa piccola semplice cellula. Semplice ma non semplicissima, perché proprio sulla base delle analisi molecolari si evince che il LUCA come complessità non era molto diverso dagli organismi odierni. Ad esempio possedeva proteine, acidi nucleici come i nostri, possedeva un sistema di sintesi proteica, di duplicazione del DNA, di duplicazione cellulare che non si discosta molto in termini di complessità rispetto a quello degli organismi che esistono oggi. Questo è un elemento di straordinario interesse in vista della comprensione del fenomeno della comparsa della vita, perché ci dice che tra gli antecedenti a noi noti almeno, quindi questa miscela di composti biologici che si possono formare in modo più o meno spontaneo e la forma di vita più semplice che noi possiamo constatare, esiste un abisso a livello molecolare, a livello di complessità. A questo punto del percorso diciamo che una domanda sorge spontanea. Che cosa è successo e perché è successo nei successivi sviluppi dopo la formazione di questo antenato comune? Beh, evidentemente questa è una domanda di immensa complessità perché include praticamente tutta la storia della vita dal Luca fino ai tempi presenti e quindi la dovremo affrontare passo passo, naturalmente proponendo alcuni elementi tra tutti quelli possibili. Da un punto di vista dell'approccio metodologico, chi ha lavorato a questi problemi lo ha fatto a due livelli. Uno, tentare di ricostruire le evidenze circa le forme di vita che compaiono nel corso della storia della Terra, quindi dal Luca in poi. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è l'analisi delle caratteristiche molecolari degli organismi che ci possono dire molto in relazione al processo evolutivo e alla formazione di nuovi organismi a partire da quelli preesistenti. Questi sono i due elementi. Ma quello che proprio in base all'analisi molecolare è stato stabilito senza ambiguità è quello che abbiamo già visto, cioè che l'albero sviluppo evolutivo presenta alla ridice un unico organismo, il Luca. Bene, per cominciare sappiamo che subito dopo la comparsa dei primissimi microrganismi, già 3 miliardi e mezzo di anni fa, si formano degli accumuli fossilizzati di organismi che sono praticamente pervasivi di tutto il pianeta, che chiamiamo stromatoliti. Gli stromatoliti sono macroscopicamente constatabili, come vedete poi nel filmato, quelli che ci sono sono ripresi in Australia ma si trovano in molte altre parti del globo e questi sono solo quelli che sono arrivati fino a noi, sono ammassi organismi che si sono fossilizzati, probabilmente sono batteri fotosintetici. Quindi in un tempo relativamente breve la vita arriva a colonizzare tutto il pianeta in una misura così massiccia da lasciare una traccia geologicamente constatabile. Quindi anche in questo senso la vita è una partenza lanciata perché in tempi brevi diventa macroscopica come realtà sul pianeta. Anche se questo non è sorprendente perché i microrganismi si riproducono velocemente, quindi che forse anche solo in centinaia di milioni di anni abbiano colonizzato tutto il pianeta è un scenario che rientra perfettamente nelle aspettative che potremmo avere a riguardo. Però dopo queste accelerazioni iniziali quello che osserviamo è una stasi che dura addirittura 2 miliardi di anni. Dopo questi primi organismi non succede praticamente nient'altro di nuovo sul pianeta. La vita continua a essere presente, continua a essere estremamente diffusa ma nelle forme che erano comparse 2 miliardi di anni prima, non cambiano. A me piace usare questa immagine, se un ipotetico osservatore fosse stato presente agli albori della vita e avesse visto i suoi sviluppi, vista la stasi quasi completa nei 2 miliardi di anni successivi avrebbe potuto sviluppare l'aspettativa che nulla di nuovo sarebbe potuto più accadere. Beh, allora è del tutto ragionevole la domanda perché dopo questo avvio tumultuoso sumentra un periodo di stasi? Naturalmente questo si riallaccia a un'altra domanda che è qual è il propulsore dell'evoluzione? Certo, qui bisogna parlare appunto di quali sono le dinamiche evolutive per inquadrare il problema nel contesto appropriato e se parliamo di dinamiche evolutive non possiamo non parlare di Darwin. La teoria che ha sviluppato Darwin ha sicuramente cambiato le nostre visioni in merito ai meccanismi dell'evoluzione. In estrema sintesi la teoria di Darwin postula che è la generazione casuale della variabilità, l'aspetto centrale dell'evoluzione. Le specie presentano nei loro caratteri diverse varianti che si generano in modo assolutamente casuale. Nessuna variante è a priori più o meno idonea a garantire la sopravvivenza dell'individuo, è solo a posteriori che la selezione preferisce per così dire quelle varianti più idonee che garantiscono la sopravvivenza della specie. In estrema sintesi la teoria di Darwin dice questo e per illustrarlo in modo molto concreto possiamo presentare l'esempio paradigmatico che si legge anche sui libri di una falena, il termine scientifico è Bistombetularia, che era presente ed è ancora presente in certe aree dell'Inghilterra. è una piccola farfalla che si deposita sui tronchi di vari alberi, preferendo le betulle, che hanno un tronco chiaro. Le farfalle, queste farfalle sono di colore chiaro e nel XVIII secolo, dopo la rivoluzione industriale che ha rilasciato nell'atmosfera grandi quantità di funigine, sono diventate scure di pari passo che si sono iscurite le cortecce degli alberi. È chiaro che il colore chiaro era una difesa contro l'assalto predatorio di uccelli e il cambiamento del colore da chiaro a scuro è semplicemente un adattamento che ha reso queste farfalle capaci di realizzare in questo nuovo contesto un mimetismo adeguato a proteggerle dalla predazione. Questo è un esempio che dimostra un cambiamento evolutivo legato alla comparsa di varianti che sono assolutamente casuali. È stata anche identificata la mutazione che rendeva le farfalle di colore scuro e risaliva più o meno all'inizio della rivoluzione industriale, all'inizio del XVIII secolo. Quindi, secondo questa visione che certamente spiega molto dell'evoluzione, è la selezione di varianti che si producono casualmente indotta dall'ambiente, dalle condizioni ambientali che determina il cambiamento delle specie. Se torniamo alla storia da cui avevamo preso le mosse, risulta subito evidente che oltre alla selezione più adatto esistono altri fattori, direi molti altri fattori, che hanno un ruolo sostanziale nel processo evolutivo e adesso tenteremo di documentare questi aspetti. Torniamo quindi alla storia che stavamo raccontando. Dopo il Luca, due miliardi di anni di stasi. In questo periodo di tempo, le forme di vita erano naturalmente solo unicellulari ed erano unicellulari primitive. In termini tecnico si dice cellule prokariotiche. Si tratta di cellule che racchiudono nella membrana tutti i componenti dispersi alla rinfusa, senza nessuna compartimentazione interna. Tanto per intenderci le cellule batteriche, che ci sono naturalmente abbondantemente anche oggi, sono tutte cellule prokariotiche. Ebbene, tra un miliardo e mezzo e due miliardi di anni fa, l'evoluzione riparte in grande stile, perché compare un tipo più complesso di cellule che sono dette eucariotiche. Le cellule eucariotiche presentano una compartimentazione interna, presentano un nucleo, come tutti sanno che nelle cellule degli organismi superiori esistono, presentano tutta un'altra serie di compartimenti interni, il più noto dei quali forse è il mitocondrio, che è un organulo in grado di effettuare il metabolismo ossidativo, di degradare gli alimenti, i composti, facendoli reagire con l'ossigeno. Questa svolta, la formazione degli organismi eucariotici, rende possibile la formazione degli organismi pluricellulari. Come dato di fatto, tutti i pluricellulari sono eucariotici. Quindi questa complessificazione è resa possibile dalla genesi di queste cellule più complesse, sono quelle eucariotiche. E naturalmente la domanda è come si formano le cellule eucariotiche. Anche qui noi sappiamo alcuni dettagli del meccanismo, ma non possiamo dire di sapere realmente perché si sono fermate. Quello che si può dire in termini molto semplificati è che le cellule eucariotiche derivano dalla fusione, dalla unione di varie componenti e rimenzione i mitocondri di cui avevamo parlato prima. I mitocondri sono, con ogni evidenza, i residui di antichi batteri capaci di metabolismo ossidativo. Questo processo di inclusione di cellule in altre cellule viene chiamato endosimbiosi, una simbiosi interna, cioè l'entrata di una cellula simbiontica in un'altra cellula. La formazione di cellule eucariotiche si accompagna anche alla comparsa del metabolismo ossidativo, cioè, come accennavo prima, alla capacità degli organismi di degradare i composti del carbonio, quelli che anche noi introduciamo con l'alimentazione, facendoli reagire con l'ossigeno. Questa è una innovazione di eccezionale importanza perché comporta una disponibilità di energia che è almeno 10 volte superiore a quella resa disponibile dalla degradazione delle stesse sostanze in assenza di ossigeno. Ebbene, la comparsa del metabolismo ossidativo, con ogni evidenza, che presuppone un cambiamento fisico dell'atmosfera che è evidentemente la comparsa dell'ossigeno. L'ossigeno non esisteva nell'atmosfera fino a circa un miliardo e mezzo di anni fa. compare perché viene prodotto dagli organismi fotosintetici, quindi i precursori delle piante odierne che sono in grado di fissare anidride carbonica e rilasciare ossigeno. La comparsa di organismi fotosintetici, della fotosintesi che rilascia ossigeno, è il prerequisito perché compaia il metabolismo ossidativo. Questo in qualche modo potrebbe essere anche legato alla comparsa degli organismi eucariotici, anche se a questo riguardo non tutti gli aspetti sono chiari. Questo elemento dimostra un aspetto di grandissimo rilievo nelle dinamiche evolutive, cioè l'interazione, la cooperazione tra grossi raggruppamenti di organismi produce degli effetti che da un punto di vista dell'impatto dell'evoluzione della biosfera sono ben maggiori che non un semplice meccanismo di evoluzione darwiniana. La comparsa del metabolismo ossidativo cambia completamente, non solo la tipologia, la diversificazione e la complessità degli organismi viventi, ma addirittura modifica in modo sostanziale gli aspetti fisici del pianeta. Questo dimostra che l'evoluzione non è puramente una selezione del più adatto. Ci sono degli aspetti in direzione che sono, vorrei dire, molto più determinanti e che sono anche imprevedibili. A me piace commentare che sulla base di queste nozioni non possiamo vedere l'evoluzione come un percorso parallelo di tanti organismi che cambiano, che si modificano indipendentemente l'uno dall'altro. Quello che gioca il ruolo più determinante è sicuramente come gli organismi interagiscono tra di loro. Questa storia procede poi con la comparsa dei primi organismi pluricellulari all'incirca un miliardo di anni fa. E anche questo è un salto di qualità non indifferente come chiunque può capire. anche se si tratta all'inizio di organismi elementari e tali restano fino a circa 500 milioni di anni fa, quando si verifica un altro evento che è di enormi proporzioni, che interessa tutti gli organismi che non ha avuto né precedenti né ripetizioni nella storia della vita. Attorno ai 500 milioni di anni fa o poco più, in un'epoca che geologicamente viene definita cambriano, dai pochi organismi pluricellulari esistenti si formano tutti i grossi raggruppamenti, che in termini zoologici chiamiamo fila, che includono tutte le specie che oggi sono presenti e addirittura includono dei raggruppamenti che poi si estingono. Quindi in un lasso di tempo che sulla scala dell'evoluzione è molto breve si ha una proliferazione di forme di vita di eccezionale vastità da meritare la denominazione di esplosione cambriana. Anche qui naturalmente la domanda è come mai è accaduto questa diversificazione così ampia e relativamente improvvisa. Ancora una volta non esistono risposte certe. Ci sono tutte diverse ipotesi che sono state proposte è anche possibile che la realtà sia da ricondursi a una combinazione di questi fattori. Parlo di cause ambientali come una glaciazione che c'è stata effettivamente in quel periodo, variazioni del contenuto d'ossigeno in quel momento aumentava in modo particolare, oppure la comparsa dell'ozono all'atmosfera, a sua volta dovuto alla formazione di quantità sostanziali di ossigeno. ma esiste anche la possibilità che ci siano state cause interne, cioè in qualche modo legate a una tendenza degli organismi in quel momento a imboccare una strada di maggiore complessità. Non abbiamo certezze, questo è il dato di fatto a questo riguardo. Mi sembra evidente che comunque questo percorso mette in evidenza la complessità e l'imprevedibilità dei percorsi della vita. Oltre alla selezione darwiniana, appare evidente che la vita non si è evoluta solo combattendo, ma anche cooperando, come appunto ha dimostrato l'esempio della cellulocariotica del metabolismo ossidativo. Oltre a ciò, come è evidente anche che hanno giocato un ruolo i fattori ambientali, vi sono anche altri fattori importanti? Direi proprio di sì, proprio sulla base delle conoscenze che abbiamo e anche delle conoscenze che si sviluppano in tempi relativamente recenti. In breve possiamo parlare di un altro fattore che consiste nella sua sostanza in una tendenza intrinseca degli organismi a evolvere. È stato coniato proprio da parte dei ricercatori che si occupano di questa problematica il termine inglese evolvability che non è facilmente traducibile ma nella sostanza significa questa. Gli organismi sono disegnati per acquisire diversificazione naturalmente nelle condizioni opportune. Una tendenza intrinseca piuttosto che legata alle componenti ambientali. Evidente che poi queste due componenti si combinano nel determinare la direzione dell'evoluzione. In tema di propensione a evolvere, uno degli esempi più significativi e con ogni evidenza è il caso dei geni OX. I geni OX sono geni che producono proteine che a loro volta attivano altre proteine e queste a loro volta controllano lo sviluppo di segmenti corporei. Ora, la straordinaria caratteristica di questi geni è che sono condivisi da una varietà di specie estremamente ampia e evolutivamente lontanissima l'uno all'altra come il moscerino della frutta e i vertebrati, quindi anche i mammiferi e quindi anche l'uomo. Ora, nel filmato, vedremo la storia della scoperta dei geni OX ad opera del professor Lewis del California Institute of Technology che fu il primo a dimostrarne l'esistenza del professor Guinness dell'Università di Basilea che dimostrò che oltre al moscerino della frutta anche l'uomo possiede questi geni. Nel 1995 il premio Nobel per la fisiologia o medicina fu assegnato al dottor Edward Lewis e ai suoi collaboratori per aver previsto l'esistenza di questo gene regolatore a monte che fu infatti successivamente identificato. Per studiare questo gene il dottor Lewis decise di studiare come animale modello il moscerino della frutta sul quale erano già state condotte molte ricerche a livello genetico. Innanzitutto il dottor Lewis iniziò a collezionare i mutanti naturali di questo moscerino. Questo moscerino ha un paio di zampe in più del normale. Questo invece è privo di ali. Questo ha un paio d'ali in più del normale. Per visualizzare il risultato del lavoro dei geni durante lo sviluppo di un normale embrione di moscerino della frutta fu usata una tecnica particolare. Possiamo vedere come la larva si sviluppi in 14 segmenti separati posti uno di seguito all'altro. Quando la larva si sviluppa in un moscerino adulto, gli arti anteriori si formano dal primo segmento toracico, quelli mediani e le ali dal secondo e gli arti posteriori dal terzo. Grazie a questi studi il dottor Lewis ha potuto concludere che su più di 10.000 geni sono almeno 8 quelli che determinano quali segmenti del corpo del moscerino daranno origine a zampe o ali. Il primo gene omeotico identificato da McGuinness fu quello che permette lo sviluppo del secondo segmento toracico. Questo gene conteneva una chiave con un codice di 180 lettere. Questa chiave permette al gene di inviare messaggi ad altri geni master key che portano allo sviluppo degli arti e delle ali. In questo moscerino con quattro ali, conservato dal dottor Lewis, una mutazione aveva fatto sì che il gene responsabile del secondo segmento estendesse i suoi effetti anche sul terzo, provocando lo sviluppo di un secondo paio di ali. Il dottor McGuinness incominciò poi a estendere le sue ricerche ad altri organismi, cercando quello stesso codice di 180 lettere che avrebbe identificato un gene omeotico. Fu allora che ci fu la grande scoperta. Ricordo quel momento come se fosse oggi. Stavo tirando fuori la radiografia dal bagno di sviluppo e vidi queste bande nere nel DNA umano. I geni omeotici trovati nel moscerino della frutta erano otto, ma ora era chiaro che grossomodo gli stessi geni erano presenti anche nell'uomo. Negli uomini ci sono 13 differenti geni omeotici classificati in quattro gruppi, A, B, C e D. Le numerose combinazioni possibili tra questi gruppi producono la struttura molto più complessa del corpo umano. Quando una delle nostre mani si deve differenziare, per prima cosa il gene omeotico manda un segnale al gene Master Key responsabile della formazione della mano. In risposta a questo segnale ha inizio la divisione cellulare e comincia a svilupparsi l'abbozzo di un arto. Poi alla fine, sempre a livello della mano, viene inviato un nuovo segnale che ordina a certe cellule di auto eliminarsi. In questo modo si ottiene la separazione delle dita. Prima viene ordinata la protrusione dell'arto e poi la separazione delle dita. È così che prende forma la complessa struttura della mano di un uomo. A questo punto, all'interno dell'arto, anche i geni omeotici responsabili della formazione delle ossa sono al lavoro. I geni omeotici 9 coordinano la produzione della scapola e della clavicola, i 10 coordinano la formazione dell'omero, mentre gli 11 danno il via alla differenziazione dell'ulna e del radio. Le ossa delle dita si formano sotto la direzione dei geni omeotici A13 e D13 si accrescono come ossa lunghe. L'osso del polso riceve ordini solo dal gene A13 e si sviluppa come osso corto. Nel caso di Rose, si pensa che una mutazione nel gene D13 abbia impedito lo sviluppo completo di una falange. Lo sviluppo del corpo umano ha inizio a partire da un singolo uovo fecondato. I geni di entrambi i genitori vengono duplicati a ogni divisione cellulare, in modo che tutte le cellule del corpo contengano lo stesso programma genetico. Presto, i 13 diversi tipi di geni omeotici iniziano a lavorare per suddividere l'embrione in sezioni. In ciascuna sezione vengono attivati diversi geni master key incaricati di produrre rispettivamente mani, cuore e tutti gli altri componenti del corpo umano. I geni master key attivati segnalano a loro volta ai geni sotto il loro controllo di produrre le proteine che serviranno a formare i vari organi. Come in un domino, i geni omeotici attivano i geni a valle nella catena e in ultima analisi vengono prodotte le proteine che creeranno la complessa struttura del corpo umano. Bene, come avete visto, l'aspetto singolare dei geni OX è che sono condivisi da organismi estremamente distanti evolutivamente e quello che è ancora più sorprendente, che non è detto esplicitamente nel filmato, è che questi geni si sviluppano evolutivamente due miliardi di anni fa. quindi ben prima della comparsa dei moscerini e dei vertebrati. Quindi è esistita una dinamica evolutiva che ha generato questi moduli genetici capaci di controllare e istruire la formazione, la crescita dei segmenti corporei di tutta una serie di varietà di specie che sarebbero comparse successivamente. Quindi questa è una esemplificazione veramente sorprendente di come nell'evoluzione, quindi all'interno degli organismi, che ci siano iscritte delle dinamiche evolutive che vanno ben oltre la selezione ardarwiniana, ma anche che non sono riconducibili semplicemente alle influenze ambientali. Tutti fattori che evidentemente giocano un ruolo, ma che non possono giustificare, se non in misura limitata, la generazione della diversità e la ricchezza delle forme che noi vediamo oggi e che abbiamo potuto constatare essere esistite in passato sul nostro pianeta. Quindi, considerando tutto questo, abbiamo qualche idea su come evolverà la biosfera? Cioè l'evoluzione si fermerà prima o poi? Bene, premetto che i tempi dell'evoluzione sono molto più lunghi di quelli della vita di un individuo, minimo 100 mila anni per ottenere normalmente un cambiamento apprezzabile. Però due cose si possono dire con certezza. L'evoluzione è irreversibile e al contempo però è inesauribile. Irreversibile lo vediamo ad esempio nel caso dell'esplosione cambriana. Molti dei fila che si sono formati sono anche scomparsi e non si riformeranno più. Però è anche vero che, come sappiamo e come continuiamo a osservare, le specie viventi continuano ad adattarsi, hanno una capacità eccezionale di adattamento alle nuove condizioni e di pari passo che cambieranno le condizioni dell'ambiente anche nuove specie si formeranno per conformarsi a queste nuove condizioni. Penso che non ci sia commento più adeguato, per concludere, del pensiero di Darwin che egli formulò riflettendo sulla bellezza che risaltava dall'osservazione del mondo biologico. Vi è qualcosa di grandioso in questa concezione della vita, con le sue molte capacità inizialmente impresse dal creatore in poche forme o in una sola e nel fatto che, mentre il nostro pianeta seguita a girare secondo la legge immutabile della gravità, si sono evolute e si evolvono, partendo da inizi così semplici, infinite forme, estremamente belle e meravigliose. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!